Because you too, it's where the food fits E adesso andiamo perché è arrivata Giulia Sì, è arrivata La mia amica da San Donato Milanese Vuole cucinare la carbonara Perché? Perché? Eccola! Ciao, bene, tu? Allora? 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 Ah, Madella si sente sola Allora, intanto vediamo gli ingredienti Spaghetti, uova, spaghetti, pecorino Una capra! Quanti ne? Due, sì Spargi, apri, avventaglio così Ok Vai, 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 vai No, non sono capace Tutto dentro, questo, rotola, rotola, rotola Rotola, rotola, rotola Strada facendo rotola Rimbalza qua e là La, 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 la Rotola, rotola Spolverata di pecorino Una capra! Ok Giulia, 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 Giulia Siamo pronti Va bene Andiamo a mangiare Andiamo a mangiare Andiamo a mangiare? Certo Guarda là Cioè, c'ha una bella faccia E tu sei un pirla Grazie di essere stati con noi